I familiari delle vittime della strage di Viareggio hanno scelto di prendersi qualche giorno per esaminare insieme ai loro avvocati le 580 pagine in cui i supremi giudici della Corte di Cassazione hanno motivato la sentenza emessa l'8 gennaio scorso in cui è stata stralciata l'aggravante del mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro facendo cadere in prescrizione le accuse di omicidio colposo e incendio colposo. Il passaggio del dispositivo che giustifica questa scelta è quello sicuramente più difficile da comprendere è ben possibile che nell'evento si sia concretizzato il rischio lavorativo anche se avvenuto in danno al terzo ma ciò richiese che questi si sia trovato esposto a tale rischio alla stessa stregua del lavoratore in pratica le 32 vittime avrebbero dovuto trovarsi o sul treno o in stazione al momento della tragedia e non nelle loro case una motivazione che sicuramente non mancherà di scatenare polemiche oltre a riaccendere il dolore in chi in quella notte ha perso tutto per quanto riguarda la posizione di Mauro Moretti i giudici hanno ritenuto non valida la sua rinuncia alla prescrizione perché fatta prima del verificarsi dell'estinzione dei reati l'ex AD di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana dovrà dunque presentarla nuovamente nel processo di appello bis anche per i giudici di Cassazione comunque la sua posizione anche dopo la cessazione delle cariche fu di forti poteri di controllo e di indirizzo sulle società collegate tra cui la stessa RFI